E sulle riforme attaccano anche i 5 Stelle. Di Renzi noi non possiamo fidarci, non ci ha dato mai motivo di farlo e quindi non vedo perché dovremmo iniziare adesso. Dovrebbe fare qualche gesto concreto. Ad esempio se sulla riforma della legge elettorale fosse disposto a dialogare, a fare le proposte sulle preferenze, noi i nostri voti ci sono e siamo pronti per approvare questo emendamento. Polimizza anche la Lega.